Conto alla rovescia per la terza edizione di Stracibo, l'atteso appuntamento dedicato al cibo di strada che si svolgerà dal 7 al 9 dicembre in piazza Federico II a Iesi. Tre giorni in cui i gourmand della buona tavola potranno gustare cibi sfiziosi e non solo, come ci spiega l'assessore al turismo del comune di Iesi, Ugo Coltorti. È una manifestazione che ha sempre ottenuto un ottimo successo e la nostra intenzione era quella di continuare su questa strada. Abbiamo cercato di cambiare qualcosina perché abbiamo ritenuto opportuno valorizzare nella maniera più assoluta le nostre eccellenze, per cui oltre ai prodotti tipici della Vallesina abbiamo pensato di portare anche in occasione di questa festa gli operatori che lavorano in questo settore, per cui saranno coinvolti alcuni ristoratori, non tutti perché non c'era spazio per tutti. Oltre alle degustazioni di vini marchigiani proposte dall'IMT ai visitatori, spiega l'assessore Coltorti, non potevano mancare laboratori per i più piccoli. I bambini si divertiranno a fare con le loro mani i piatti sempre seguiti dall'Istituto Pansini di Senigallia. I ragazzi che stanno studiando per diventare i futuri chef della nostra regione si divertiranno a dare una mano a questi ragazzi che in questi tre giorni vorranno prodigarsi per fare con le loro mani i dolci, i pane e quant'altro potranno realizzare insieme al loro aiuto.